Dopo Teramo, città che legge, arriva il progetto Piccoli lettori crescono per promuovere la lettura nella prima infanzia. Il comune è tra i soggetti partner e tre sono i midi all'interno dello stesso progetto. Si inserisce in piena continuità con quella che è la programmazione che questa amministrazione ha messo in campo con tutta una serie di partner fondamentali e che stanno investendo sul tema e sull'importanza della lettura anche a partire dai più piccoli, da quel segmento 06 che tante volte viene lasciato indietro e che invece per Teramo diventa nevralgico, diventa centrale. Questa è la scommessa che abbiamo fatto. Siamo risultati quarti a livello nazionale con il progetto complessivo Teramo Città che legge ottenendo un finanziamento ministeriale di 50.000 euro. In questo caso siamo addirittura secondi in questo segmento ed è un ulteriore segmento, un ulteriore finanziamento che si aggiunge pari a 100.000 euro per andare a sviluppare questo progetto sul territorio, un progetto che è stato realizzato grazie alla cooperativa Leonardo che oggi gestisce con il Comune di Teramo una serie di servizi sul territorio e che in qualche modo certifica quel percorso di eccellenza che come amministrazione avevamo avviato e che oggi continua a ottenere dei riconoscimenti anche fuori dal nostro territorio.